Prima di cominciare questo però voglio rispondere a una telefonata che ho ricevuto subito dopo la fine della prima parte della trasmissione. La telefonata era dell'amica della Lucia di Treviso, in pratica, da quello che ho capito, se ho sbagliato chiedo scusa, la quale mi diceva, ma se voi vi ritrovate sull'altipieno di Asiago, anche voi siete una setta? Questa era in sintesi la domanda che aveva fatto. Prima di tutto noi non siamo una setta, siamo una religione. Religione nel senso reale del termine, cioè nel senso di religios, cioè tutto ciò che serve per legare l'essere umano al mondo che ci circonda, rifacendo diventare parte del mondo che ci circonda. L'idea del ritrovarsi una volta all'anno sull'altipiano di Asiago e l'idea anche di alcune pizze conviviali, di alcune riunioni conviviali che facciamo, cioè alcune pizze che facciamo in giro, e dopo di che vanno anche sull'onda dei riti che vengono fatti dalla strega Zoe su Alecco, hanno uno scopo preciso. Ogni volta che un apprendista stregone, un sognatore, un psichista, un pagano percepivano il mondo, si trovava sempre, sempre da solo ad affrontare tutti. Noi avevamo trovato sempre delle difficoltà in mani nell'affrontare quello che è il sistema sociale cristiano. Perché questo? Perché qualsiasi cosa noi facevamo, qualsiasi richiesta di libertà, ci trovava sempre da soli contro tutti. Se avete sentito le telefonate nella prima trasmissione, c'è stata una telefonata che ha detto che io sono matto. Bene, il mio essere qui in trasmissione serve per dimostrare un modo di percepire il mondo, che tutte le persone che stanno ascoltando e che sentono il mondo in maniera similare possono dire sì, c'è anche quel matto di Simeone che dice queste cazzate. Cioè la mia presenza qui deve essere un punto di riferimento per tutte quelle persone che cercano la loro libertà e possono sapere che c'è un matto che sta lavorando perché loro possono avere sostentamento, cioè possono sorreggersi intanto che imparano a camminare e a correre. Per cui i sognatori, quelli che percepiscono il mondo come coscienza, che hanno vari flash, che hanno varie sensazioni, quelli che si sono accorti che il mondo che ci circonda è vivo, quelli che sanno che il loro cane non è semplicemente un cane da compagnia, ma è una coscienza, è una consapevolezza, è un essere che usa la propria volontà. Tutti quelli che hanno pratica di sognare, che hanno percepito l'esistenza di un corpo luminoso, l'esistenza di sensazioni psi, ecco, e vale anche per l'ateo che non vuole per esempio che suo figlio gli insegna il cattolicesimo a scuola, cioè tutte queste persone hanno il diritto, hanno il diritto a esercitare il loro modo di essere, la loro esistenza, senza per questo dover affrontare quotidianamente un combattimento nella vita. Bene, questo nostro ritrovarsi, questo nostro parlare, questo nostro camminare insieme, questo nostro sederci insieme, serve esclusivamente per questo, cioè serve perché io posso raccontare il mio sognare ad altre persone che hanno avuto del sognare simile, posso raccontare le mie sensazioni con delle persone che hanno avuto delle sensazioni simili, posso raccontare il mio essere pagano con delle persone che hanno una percezione pagana simile, e nelle diversità, nelle infinite diversità, nelle infinite sfaccettature che è il paganesimo e la stregonaria, c'è sempre il momento di incontro, mentre invece non esiste un momento di incontro con i cristiani. Per cui non è che non siamo una seta, noi non ci separiamo dal sistema sociale, noi viviamo il sistema sociale fino in fondo, però non è giusto che ogni pagano, ogni apprendista stregone, ogni ateo, ogni sognatore, debba tutte le volte ricominciare da capo e affrontare la vita praticamente da solo, e da solo deve combattere contro il mondo. Ci sono delle donne o dei due uomini che portano i loro figli a scuola e dicono io non voglio fare istruzione cattolica, e vengono letteralmente aggrediti da una vera e propria organizzazione di mafia cattolica per costringere quel bambino, metterlo nelle condizioni di fare ugualmente cattolicesimo. Io ho subito aggressioni da parte di Suora contro mia figlia, una bambina di tre anni, proprio perché non volevo che facesse istruzione religiosa, ma aggressioni al limite della fisicità. Per cui non è giusto che le persone debbano subire queste cose, è giusto che le persone abbiano delle relazioni con delle persone che sono simili. Per cui non è una questione di setta, è una questione di sentire il mondo. E proprio sull'ottica del sentire il mondo, per quel che mi riguarda a me, le persone che io inviterò su e che porterò su all'Asia, per me sono quelle persone che hanno una sensibilità particolare nella percezione. E questa sarà la vera discriminante. Provo una telefonata, dopodiché non prendo più telefonate, è una telefonata rapida però. Pronto? Sì? Dimmi tutto. Dipende dalla qualità del sogno, perché normalmente il sogno appartiene alla singola persona. Però se è molto vivido, molto intenso, e prende tutti i sensi, allora ha una qualità diversa. No, non posso, adesso gioca avanti con la trasmission. Però, se ti vuoi, il prossimo giovedì, è la prima trasmissione, mette il telefono, intanto mette il telefono a tanta gente per insultarmi, e potremmo parlare tranquillamente, insomma. Cioè, almeno tenerla più lunga la telefonata. Se ti va bene. Giovedì prossimo alle ore 15, va bene. Grazie a te. Ciao, ciao. Sì, io posso dare solo alcune spiegazioni sul sogno, cioè quel sogno che appartiene alla stragoneria, che è vicino alla nascita del corpo luminoso, o comunque che è l'interazione fra il corpo luminoso e il corpo fisico. Farò anche delle trasmissioni su questo, all'interno del Corgiolo dello Stregone, nei quattro canti del mondo. Però, questa sera, sto preparando una cassetta un po' particolare, e voglio fare la sintesi dei concetti filosofici, etici e morali, della stragoneria del paganismo politeista, come io, i pagani di Marostica, Francesco, Luigi, e tutti gli altri che ci hanno seguito, siamo riusciti a costruire, e stiamo tentando di portarli avanti con le dovute differenze. Mi raccomando questo. I concetti sono stati elaborati in varie forme, e scusate se per caso non dovesse riuscire a finire tutta la carellata, eventualmente la finirò un altro giorno. I concetti sono stati elaborati in varie forme, e vengono diffusi per il momento in sei libri, dal titolo, Il Libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth, La teoria della filosofia aperta, Il Sentiero d'Oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma, e i fenomeni di premorte interpretati dalla stragoneria e dal paganesimo politeista. I testi sono stati depositati in Siae, anche se adesso rinnovo il deposito, ma chiunque ne farà uso per costruire libertà sarà il benvenuto. Sono in preparazione Il Corgiolo dello Stregone, che sto andando avanti trasmissione per trasmissione preparandolo, Il Corgiolo dello Stregone è pronto, Il Corgiolo del Male è pronto, devo fare una correzione veloce, i miei libri sono scritti sempre malissimo, sempre scritti da cani, però le idee sono chiare. E Il Corgiolo dello Stregone, I quattro canti del mondo, non manca moltissimo. Ed è in preparazione un libro Didimo Giuda Tommaso, L'ultimo Stregone Pagano, che è un'analisi del Vangelo trovato sotto le sabbie egiziane. Ed è in fase abbastanza avanzata, ci lavorerò questa estate. Ora, perché io mi chiamo meccanico, apprendista Stregone e guardiano dell'Anticristo? La risposta che vi dico è tratta da una lettera che ho spedita nel 96 e che mi chiedeva informazioni, sicuramente per conto terzi, sul fatto che io mi facevo chiamare, io mi faccio chiamare meccanico, apprendista Stregone e guardiano dell'Anticristo. Dice la lettera, ho ricevuto la sua lettera e devo dirla con rammarico e per colpa di miei impegni che non so cosa gli amici del Centro Studi Politeisti hanno pubblicato anche se mi avevano anticipato il loro interesse per la figura di su mano. Non ho nessuna difficoltà a fornirle le informazioni che lei desidera, anche se ritengo che queste non siano necessariamente quanto lei si aspetta di trovare. La magia può essere sia una cosa seria che un gioco da salotto. La stregoneria è l'essenza stessa dell'esistenza. Il credere o il non credere in stregoneria non esiste se non come giudizio di necessità contingente. Delle mie qualifiche che lei cita omette quella che, mancando, diventa la più importante, meccanico. Non penso che il Centro Studi Politeisti se ne sia dimenticato. La mia professione è quella dell'operaio meccanico. Da 25 anni riparo, revisiono, ricostruisco, ricondiziono macchine per ufficio, aerei ed elicotteri anche. Ho iniziato con macchine per scrivere, calcolatrici, macchine elettroniche e ora fotocopiatori. Attraverso l'esecuzione di un simile lavoro eseguito attraverso la sospensione del giudizio, il blocco del dialogo interno, lo sviluppo delle correnti vegetative, si è costruita una relazione fra me e il meccanismo finalizzato al mutamento. L'attività di meccanico mi ha permesso di cavalcare i mutamenti. Questa è la mia via alchemica. Sono un guardiano dell'anticristo. Qui il discorso si fa un po' più complesso. L'anticristo è quanto ci circonda, cosciente e consapevole di sé. Diciamo che rispetto all'essere umano è immanente, ma trascendente rispetto alla sua ragione. Ci circonda, ma non può essere raggiunto mediante la ragione, ma soltanto alterando la percezione. Per comprendere questo concetto è necessario capovolgere il fondamento della filosofia tradizionale. Non è Dio che crea l'esistente e a cui l'esistente tende, ma è l'esistente inteso come coscienza universale, inteso come universo che attraverso le proprie determinazioni e i propri mutamenti costruirà la coscienza universale. Il drammatico di tutto ciò è che per gli esseri della natura non c'è possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso se non attraverso l'uso delle determinazioni o della volontà per costruire il proprio potere di essere. Allo sviluppo del potere di essere si contrappone il potere di avere, il cui scopo è quello di soddisfare i bisogni degli esseri che vi aderiscono attraverso il possesso di altri esseri ed esseri umani in particolare. Il potere di avere svuota gli individui di energia vitale di volontà e di determinazione impedendo loro di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso dal momento che l'esistente anticristo sviluppa il proprio potere di essere anche grazie al fatto che gli esseri della natura riescano a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso trasferendovi la propria coscienza e proiettando nell'infinito di mutamenti la propria libertà il potere di avere ostacolando questo attraverso il possesso degli esseri e degli esseri umani in particolare rappresenta un ostacolo allo sviluppo del potere di essere dell'esistente anticristo il nome anticristo deriva dal fatto che la più grande e devastante operazione di distruzione degli esseri umani è avvenuta ad opera di tale Gesù di Nazareth o dell'immagine descritta il cui scopo era quello di trasformare gli esseri umani in incubi e succubi è sufficiente analizzare la storia degli ultimi millenni prendendo come punto di riferimento l'essere umano nei gradini più bassi della scala sociale l'esempio dei maghi neri è dato dei preti cristiani quando ufficiano messa essi manipolano l'attenzione degli astanti mentre contriti se ne stanno in ginocchio essi diventano quanto Gesù promise loro pesci fritti in padella o pecole portate al macello del buon pastore private della possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso l'anticristo è la somma delle coscienze di sé che ci circondano quando queste sono finalizzate lo sviluppo della libertà del fare per la costruzione del proprio potere di essere un essere diventa guardiano dell'anticristo quando percependo il bisogno di libertà del circostante sviluppa la propria libertà costruendo il proprio potere di essere diventa guardiano dell'anticristo qualsiasi cosa faccia in questa direzione qualsiasi sia la sua scelta sia che questa sia occasionale o che si estenda per l'intero arco della vita quando un essere e nel nostro caso un essere umano interiorizza e fa gocita una scelta di questo tipo l'esistente che incontra lungo il proprio cammino si mette in marcia affiancandolo vale anche il contrario l'esistente mettendosi in moto nella ricerca della propria libertà coinvolge gli esseri umani sensibili ai suoi messaggi infine sono un apprendista stragone innanzitutto che cos'è uno stragone uno stragone è un essere della natura essere umano essere animale di qualunque specie o essere vegetale di qualunque specie che nel corso della propria esistenza fisica ha sviluppato il corpo luminoso il doppio se preferite al punto tale di essere in grado di trasferire la coscienza volutamente e coscientemente anche sul piano della ragione dal corpo fisico a quello luminoso agendo con l'uno o con l'altro a seconda delle proprie necessità uno stragone è un essere umano eterno prima che giunga la morte del corpo fisico un apprendista stragone è colui il cui scopo è sviluppare il corpo luminoso mantenendolo compatto all'atto della morte del corpo fisico e soprattutto trasferendo in toto la coscienza la coscienza dall'uno all'altro esistono altre forme attraverso le quali riuscire a superare la soglia della morte del corpo fisico tutte molto più deboli esiste un solo modo per essere certi di non superare quella soglia pagare qualcuno perché aiuti al momento della morte del corpo fisico tutto il resto è solo una questione di tecniche attraverso le quali forzare i limiti della ragione o manipolare l'energia vitale tecniche che servono solo a scimmiottare quando non esiste soggettivazione dell'oggettività se un essere umano non usa le mani per trasformare merci in prodotti palpando il mondo se non pratica la libertà finalizzata allo sviluppo del proprio potere di essere fermandolo quanto basta per diventare un essere sociale se non impara a chiedersi il perché delle cose e il perché del perché delle cose ancora il perché del perché delle cose sospendendo il giudizio se non impara a manipolare la propria attenzione distruggendo o manipolando a proprio favore il proprio condizionamento educazionale se non impara a sviluppare le proprie determinazioni e la propria volontà estendendo le ali della percezione oltre il pensato della ragione e dando l'assalto a chi lo vuole in ginocchio allora può essere che un qualche momento di digiuno di malattia o di tensione o di febbre o peggio ancora sotto l'effetto di droghe o alcol si trovi ad incontrare una coscienza non fisica che lo getta in ginocchio spacciandosi come Dio suo padre o come un satana salvatore degli affanni del mondo le fobie indotte dal condizionamento educazionale poi fanno il resto ne sa qualcosa Tommaso d'Aquino questa lettera serve per chiarificare perché mi chiamo meccanico aprendista stregone guardiano dell'anticristo per comprendere che cos'è il paganesimo politeista e a cosa questo mira vi presentiamo i principi che tentiamo di illustrare attraverso la conferenza che sistematicamente ci viene sabotata da organi istituzionali incapaci di adopporsi ricordando che quanto viene fatto viene fatto per ordine della Costituzione della Repubblica articolo 4 come secondo e che impedircelo rappresenta un attentato alla Costituzione della Repubblica consistente nel distruggere l'oggettività dei principi giuridici sostituendoli con quelli del macellaio di Sodome Gomorra o fai quello che voglio io o ti ammazzo che significa anche o dici quello che voglio io o tu non parli ricordate l'inquisizione la traccia della conferenza consente di tracciare un quadro generale nel quale si sviluppa il pensiero della stregoneria e del paganesimo politeista la conferenza l'abbiamo già trattata in altre trasmissioni all'inizio due anni fa circa comunque la conferenza comprende i concetti la creazione nel paganesimo politeista la vita e la morte il concetto di divino come negazione di Dio l'essere assolutamente necessario l'orrore della concezione religiosa cristiano cattolica il circostante come coscienza i riti in stregoneria a mezzo per fondare la libertà il paganesimo politeista come religione la creazione nel paganesimo politeista la conferenza la conferenza l'abbiamo presentata a Vicenza l'abbiamo presentata a Treviso l'abbiamo presentata in alcune conferenze anche qui in radio l'abbiamo presentata a Marghera anche se in una forma diversa ebbene per cui salto l'intera conferenza tanto per non riprendere la conferenza e passiamo questi sono i principi sintetici del paganesimo politeista e della stregoneria la loro implicazione viene sviluppata nei libri i quali coprono un periodo di lavoro che va dal marzo del 1980 ad oggi dal momento che io non so scrivere in buon italiano il linguaggio e la forma di scrittura si sono sviluppate assieme a quegli scritti il primo libro che ho scritto risente di forte imprecisione linguista e di disordine strutturale ma fissa i principi generali del paganesimo politeista e della stregoneria ed è il libro dell'anticristo il libro dell'anticristo è fatto in cinque parti e le parti si dividono il vangelo dell'anticristo la via umana al divenire eterni la fondazione della libertà l'anticristo e il mondo circostante e la menzogna cristiana sulla realtà di Dio nel vangelo dell'anticristo abbiamo quella che normalmente viene chiamata la cosmologia abbiamo l'universo l'essere l'entità la natura cioè sviluppa il significato di questi concetti il quarto stadio di sviluppo della specie umana il quarto livello o l'altro mondo il luogo d'origine del male che cosa sono le linee di tensione coscienza di sé e coscienza del sé che cos'è il bene e il male per il paganesimo sempre la stregoneria e l'anticristo e definisce il concetto di anticristo nella seconda parte la via umana al divenire eterni abbiamo il progetto dell'anticristo il mondo circostante che cos'è la verità il potere di essere il potere di avere oggettività e soggettività superio e io psichistico lo psichista e superio è il mondo il termine psichista dopo lo sostituito in seguito col termine pagano caccia e ricerca dell'io psichistico il sognare chi sono i guardiani e perché il guardiano questioni sulle sostanze chiamate droghe e il computer la terza parte praticamente nella seconda parte trovate anche il nostro concetto sulle droghe chi sono i guardiani la terza parte è la fondazione della libertà e nella fondazione della libertà abbiamo un aspetto che cos'è la conoscenza dialettica e divenire tentativo di definire la teoria della dipendenza adattamento soggettivo alle variabili oggettive ricordo che è il principio fondamentale del paganesimo l'attenzione a proposito dei sentimenti riflessioni di un psichista sul sistema sociale umano nella quarta parte l'anticristo e il mondo circostante abbiamo il concetto di energia vitale e materia eredità rinascita e coscienza della specie cioè i nostri concetti una domanda per i psichisti cristiani e psichisti attraverso una riflessione discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione sole e pianeti come esseri viventi nascita e coscienza di essere slegati alla vita animale e vegetale sul concetto di vittoria e sconfitta riferito alla via prosluppo e la coscienza di sé nella quinta parte invece nella menzogna cristiana sulla realtà di Dio c'è un'analisi dei concetti su Dio cioè relativi a Dio che vengono espressi da Kant nella sua critica alla ragione pura e c'è un'analisi di questi concetti il libro d'anticristo vi ricordo che lo abbiamo già letto in radio lo abbiamo già presentato per cui vi salto la parte del libro d'anticristo che c'è in internet che potete trovare in internet se qualcuno usa internet e questi sono i concetti base sviluppati dal libro d'anticristo che continua elaborando ulteriormente e definendo vari aspetti dal libro d'anticristo viene staccata la sesta parte originalmente era fatto in sei parte che diventa un libro a sestante dal titolo Gesù di Nazareth e l'infamia umana inizialmente si trattava di un commentario al Vangelo di Marco ma a necessità di sviluppare i discorsi ne hanno costruito altri aspetti Gesù di Nazareth e l'infamia umana mette in rilievo come l'orrore dottrinale cristiano non sia frutto di atti malvagi dei cristiani ma sia elaborazione perversa inumana del loro presunto creatore tutti gli atti perversi di distruzione umana sono indicati dal suo fondatore e i cristiani hanno saccheggiato il genere umano in ossequio ai suoi insegnamenti nel Gesù di Nazareth l'infamia umana l'abbiamo trovato in questo momento è fatto in quattro parti però ho appena aggiunto altre tre parti di questo contiene il commentario del Vangelo di Marco la seconda parte contiene un'analisi comparata di punti comuni e i vari Vangeli ufficiali vi ricordo che io non uso i Vangeli sinotici per cui ho dovuto lavorare apposta l'analisi comparata di punti comuni e sono dieci punti comuni e dieci situazioni comuni è Gesù davanti al sinedrio il fico sterico maledetto Gesù crocefisso i profanatori cacciati dal tempio la cena di Betania il profumo la risurrezione Gesù a Nazareth istruzione agli apostoli le tentazioni e autoproclamazione di Gesù come figlio di Dio queste sono la seconda parte del Gesù di Nazareth l'infamia umana e a queste cose messe insieme c'è un commentario la terza parte invece è data da una comparazione fra il pezzo del verbo di Giovanni e il Giovanni apogrifo e Giovanni apogrifo dove le due concezioni religiose vengono messe a confronto la quarta parte del Gesù di Nazareth l'infamia umana l'ho letto per radio sono le varie relazioni fra Gesù e i farisei e messe però come vengono applicate dalla chiesa cattolica nel corso della storia vari episodi fra cui uno anche con Voitila molto simpatico a questi episodi del Gesù di Nazareth e dell'infamia umana sono stati aggiunti ultimamente il pazzo di Nazareth e sono tutte le affermazioni pazzoidi fatte dal Gesù di Nazareth negli Vangeli Ufficiali a proposito del Deimos a proposito della cacciata dei demoni un pezzo che si chiede ma come mai i cattolici indicano Giuda come traditore perché mai dove cazzo sta sta cosa e una quarta parte è una quarta parte che Gesù di Nazareth il pederasta cioè la pederastia nel Gesù di Nazareth e come questa pederastia sia l'essenza stessa dei comportamenti di Voitila davanti ai comportamenti pederasti dei cardinali dei vescovi dei preti pari pari questi pezzi sono stati aggiunti al Gesù di Nazareth all'infamia umana bene dal Gesù di Nazareth all'infamia umana vi leggerò un pezzo un pezzo estratto to cure che non ho presentato in radio è un pezzo all'interno dei commentari sul discorso della montagna i vari insegnamenti la chiesa cristiana pur puntando su questo per allargare il proprio potere distruggerà la conoscenza tecnica la medicina greca romana egiziana in quanto pagana non può sul palcoscenico della propria recita ammetterlo direttamente ne può permettere che i suoi preti prendendo la lettera all'essere poveri di spirito si trasformino in idioti del villaggio perdendo la capacità di controllo delle pecore del proprio gregge da qui un'interpretazione per i pastori e pescatori di anime e un'interpretazione per i pescati e i macellati proviamo a scrivere lo stesso schema precedente specchiandoci il suo contrario ricordo sto parlando sempre del discorso della montagna di vari insegnamenti beati i poveri di spirito maledetti i ricchi di spirito beati quelli che piangono maledetti quelli che ridono beati i miti maledetti gli insofferenti beati quelli affamati di giustizia maledetti che conquistano la giustizia beati misericordiosi maledetti coloro che affrontano i problemi affliggenti per risolverli beati i puri di cuore maledetti i sospettosi beati i pacificatori maledetti coloro che affrontano le contraddizioni beati i perseguitati maledetti i persecutori beati voi quando vi perseguiteranno con falsità e qui il contrario non lo conosco in quanto affermazione assolutamente soggettiva dove la libertà dell'uomo portata dal figlio dell'uomo se l'unica possibilità per la felicità e la soddisfazione dei propri bisogni appartiene al capriccio di dio oltre la soglia della morte del corpo fisico e la rinascita attraverso un'ipotetica risurrezione l'assurdità di questi insegnamenti sta oltre a varie altre cose all'assoluta mancanza di riferimento oggettivo è una costante nella cultura ebraica di quel tempo dopo la fuga da Babilonia prima e dall'Egitto poi gli ebrei elaborarono la legge ebraica condensandola nei dieci comandamenti una brutta copia dei codici di Hammurabi e degli egiziani e simili dove manca la relazione fra reato e pena nel discorso sulle beatitudini manca la relazione fra beatificazione e maledizione per questo la scelta del maledire e del beatificare rimane un discorso soggettivo dove un'organizzazione gerarchica proteggendo i propri interessi ne produce un'interpretazione finalizzandola al rafforzamento del proprio potere e della propria capacità coercitiva nei confronti dei popoli del pianeta dietro il beatificare si nasconde il maledire la paura del mondo circostante il terrore nella trasformazione del mondo e dell'universo del cui il Gesù dei Vangeli cristiani non ha percezione razionale ma terrore profondo e istintuale il desiderio del Gesù dei Vangeli di trasformare l'umanità in incubi e succubi lo porta a non guardare in faccia il reale quotidiano di cui si circonda per rifugiarsi una follia giustificata soltanto dal ritenersi il figlio del Dio creatore del cielo della terra cosa implica l'opposto delle beatitudini implica la descrizione di un uomo diverso l'uomo nuovo quello in grado di guardare l'universo negli occhi dimentichi di quella paura che paralizza le membra quando la propria percezione viene inondata dal caos della totalità dell'esistenza leggiamo il contrario beati coloro che danno l'assalto al cielo della conoscenza del sapere della consapevolezza beati coloro che estendendo le ali della percezione non vengono afflitti dai bisogni in grado di ingabbiare i propri sentimenti in tristezza e dolore beati i guerrieri delle contraddizioni coloro che non nascondono la testa sotto la sabbia ma affrontano l'esistente con le proprie forze beati coloro che fanno del raggiungimento della giustizia come elemento oggettivo del proprio esistere motivo della propria esistenza beati coloro che si impegnano a rimuovere i problemi d'ostacolo a tutti gli esseri nel corso della propria esistenza sia per essi per i propri simili e per l'ambiente circostante beati i sospettosi coloro che vogliono verificare le affermazioni gli intolleranti nei confronti di chi non chiama le cose con il loro nome beati coloro che affrontano beati coloro che attaccando sotto qualsiasi forma il potere costituito che provocò la loro ira costruendo condizioni di vita inaccettabili vengono da questi perseguitato la costruzione è parziale però metti in evidenza l'atteggiamento di un individuo che lancia il proprio grido di esistenza davanti all'universo nella sua totalità di questo il Gesù dei Vangeli ha paura non dimentichiamo mai mentre gli apostoli devono diventare pastori i popoli devono diventare pecore da condurre al macello e come disse un'amica tanto più quelle pecore devieranno dalla strada del macello tanto più forte i pastori bastoneranno bene a questo a questo è stata aggiunta è stata aggiunta un'altra al Gesù di Nazio all'infamia umana sono state fatte delle aggiunte ebbene vi ricordo sempre che se io sono tollerante rispetto a una persona un essere umano cioè una persona mi dice delle cose false io posso anche pensare che lui ha sbagliato però questa tolleranza davanti a queste falsità io non la posso dare davanti a quello che viene spacciato o a quell'immagine che viene spacciata come figlio del Dio padrone assoluto e creatore dell'universo io non posso essere tollerante negli errori nell'infamità nella viltà con cui si raffronta con gli esseri umani posso essere tollerante con un essere umano sono tollerante con la donna che mi dice che sono stupido che sono idiota che sono deficiente non sono tollerante rispetto a Voitila rispetto a un prete rispetto ai cattolici come struttura questo non sono assolutamente intollerante posso capire che la diffusione dell'ignoranza sia tale per cui la donna è convinta che il suo Gesù sia buono anziché un pezzo di merda cioè uno che non ha capacità di affrontare il mondo di questo posso essere convinto che la donna sia ingannata e si sente offesa dalle mie parole ma non posso accettare questo da un prete non posso accettare questo da una struttura cattolica e questo per questo vi presento invece la cacciare i demoni e la distruzione dell'essere umano ed è un aspetto fondamentale del cattolicesimo un aspetto fondamentale dell'insegnamento del Gesù di Nazareth allora dall'enciclopedia o Eppli che è un'enciclopedia da 200 lire cioè che fa schifo cioè non è niente di importante il termine demone dice questo dal greco daimon spirito divino effetto di volere sovrumano dispensatore e affianca all'ebraico rua soffio o fiato un mio amico mi ha fatto notare che nell'enciclopedia c'è un errore dal momento che non si può avvicinare il termine demonio cioè divinità come dio col termine ebraico di rua che andrebbe piuttosto accoppiato al greco o pneuma comunque ve lo do così come l'ho ricevuto secondo l'antichissima tradizione animistica il soffio questo es dall'enciclopedia è che cos'è il demonio che cos'è vuol dire demonio secondo l'antica tradizione animistica il soffio che anima tutte le cose che vivono in natura questo soffio spirito animatore è sempre invisibile e può essere benigno o maligno favorevole avversario all'uomo può essere congiunto ad una pietra ad una fonte ad un albero ad un soggetto può assumere consistenza corporea ed apparire in certo modo strani e così via dunque daimonium o daimonion è la divinità come ispirazione cioè e daimon è la divinità come dio questo dobbiamo sapere questo perché se non sappiamo questo non riusciamo a comprendere qual è il significato dell'insegnamento del pazzo di Nazareth nel scacciare i demoni dunque il demonio è il divino che permea il circostante è la coscienza di sé di ogni oggetto e di ogni essere è il divenire eterno di ogni essere esistente in questo momento demonio sta ad indicare il respiro divino del mondo e al demonio e ai demoni si oppone Gesù di Nazareth che anziché affiancarsi al divino del mondo tende ad appropriarsene per sottometterlo al proprio vuoto demonio è il divino dentro l'essere umano e la cacciata dei demoni e del demone dall'essere umano messa in atto da Gesù assume un significato preciso nella sua dottrina di morte il demonio non è dunque un oggetto in sé è il divenire divino di un essere umano è lo sviluppo della coscienza di sé che si appresta ad assumere la coscienza dell'essere all'atto della morte del corpo fisico il demonio è l'atto divino dell'essere umano il suo svilupparsi il suo relazionarsi col mondo circostante Gesù insegna a combattere quel divino non è casuale l'accoppiamento fra l'essere divino che spinge nell'essere umano per svilupparsi e l'epilessia come manifestazione fisica visibile da un lato indica la necessità di distruggere il divino e dall'altro indica gli effetti del divino nell'epilessia e nelle sue manifestazioni i cristiani dicono sviluppare il divino che avete dentro vi porta a diventare epilettici pertanto è necessario distruggere il divino per non diventare epilettici in altre parole occorre distruggere il divino che si sviluppa per mettere in ginocchio gli esseri umani è chiaro che il Vangelo di Marco e di Matteo secondo cui questa specie di demoni non si può cacciare in nessun altro modo se non con la preghiera e il digiuno l'ambiguità consiste nel non indicare il soggetto che dovrebbe pregare e digiunare il digiuno è un'operazione debilitante nei confronti del corpo e rende l'individuo estremamente debole e psicologicamente sottomesso la preghiera è un atto di sottomissione a critica le due cose assieme tendono a distruggere la volontà e le determinazioni attraverso le quali l'essere umano si relaziona col mondo in altre parole tendono a distruggere il divino dentro l'essere umano e come conseguenza scacciano il farsi Dio dell'essere umano l'uso dell'epilessia come modello dell'individuo posseduto è estremamente simbolico l'essere umano che si fa Dio sviluppando il divino che ha dentro è incontrollabile in quanto non è disponibile a sottomettersi l'epilettico è costretto a seguire i suoi impulsi nel corso dei suoi attacchi e le sue convulsioni non sono controllabili se non come feroci atti di forza fisica inoltre essendo attacchi improvvisi imprevedibili ed origine sconosciuta è più facile addebitare l'azione del possesso dell'individuo da parte di un'entità esterna piuttosto che sospendere il giudizio sulla loro causa l'azione trascendente millantata dall'estensore del Vangelo ad opera di Gesù viene smentita dal fatto che tutti gli spettatori vedono i demoni Gesù scaccia i demoni secondo gli evangelisti come spettacolo tutti assistono alla cacciata dei demoni dunque da fatto trascendentale diventa un fatto normale da azione del Dio creatore diventa trucco da imbonitore quelli che avevano visto raccontano loro quanto era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci oppure gli scribi che erano venuti da Gerusalemme dicevano è posseduto da Belzebù e in vertù del principe dei demoni caccia i diavoli ancora ma allora Gesù intimò taci e parti da costui allora lo spirito impuro dopo aver agitato convulsamente uscì da lui gettando un forte urlo tutti rimasero stupiti e si domandarono a vicenda chi è questo un insegnamento nuovo dato con autorità comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono la cacciata dei demoni a prima vista appare come la sceneggiata di un giocoliere per accentrare l'attenzione degli astanti e coinvolgerli nello spettacolo in realtà è una precisa forma dottrinale in cui il cacciato non è una coscienza esterna all'essere umano è il divino dell'essere umano che secondo Gesù deve essere distrutto al solo scopo di costringere l'essere umano a pregare suo padre questo tipo di vicende si inserisce molto bene nello scontro di quel tempo da un lato c'era chi intendeva non importa attraverso quale pratica farsi Dio sviluppando il divino che aveva dentro e dall'altro chi intendeva distruggere questo divino per costringere le persone in ginocchio a pregare sottomesse non a caso nel Vangelo di Marco e di Matteo chi riconosce Gesù e il suo ruolo distruttore del divenire umano attraverso l'auto-identificazione col figlio del macellario Sodoma e Gomorra sono propri demoni cioè quegli esseri umani che hanno sviluppato il divino che hanno dentro il daimonion c'è da rilevare come nessun individuo malato di morte possa in nessun caso agire affinché un essere umano che ha sviluppato il divino che ha dentro lo possa perdere c'è un solo modo per distruggere il divino sviluppato dall'essere umano distrugge l'essere umano stesso costringendolo alla sottomissione appare evidente a questo punto come la figura di chi spaccia i demoni come noi oggi siamo abituati a considerarli sia assolutamente inventata Gesù che scaccia i demoni non è mai esistito è esistito uno scontro fortissimo fra chi si ispira al divino quindi come farsi Dio e chi sottomette alla descrizione di Dio padrone è esistita esattamente come esiste oggi mentre non è mai esistito allora come non esiste oggi il demone come siamo stati educati a considerarlo che si impossessa di individui costringendoli a comportamenti disordinati fra virgolette questa parte dottrinale al di là di come viene raccontata è sicuramente più antica del 30 dopo Cristo inizialmente stava ad indicare uno scontro di pensiero molto probabilmente fra esseni e quelli che diventeranno gli ignostici nel Nuovo Testamento c'è un accenno ad una grande figura di Stregone che è Simon Mago la sua azione era quella di evocare la forza di Sofia in aiuto alla fondazione del divenire degli esseri umani questo in contrapposizione ad un Gesù che indicava se stesso come incarnazione del sapere lui diceva gli abitanti di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno perché essi fecero penitenza alla predicazione di Giona ed eccovi ben più di Giona la regina di Mezzogiorno risorgerà nel giudizio insieme con questa generazione la condannerà perché la venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone ed ecco vi è ben più qui di Salomone questo lo trovate in Matteo il sapere davanti al quale sottomettersi pregando e digiunando questa ignoranza che i cristiani chiamano sapere a un nemico da Emonion è il sapere come fare divino del singolo essere umano ed ecco Sofia contrapporse l'ignoranza di un Gesù assolutamente inventato non è inventata invece l'indicazione dottrinale di scacciare chiunque attraverso l'ispirazione del divino del circostante sviluppa il proprio divino facendosi Dio l'azione descritta del Gesù che scaccia i demoni altro non è che un'indicazione comportamentale attraverso la quale imporre la dottrina per sottomettere gli esseri umani alla pulsione di morte la cacciata dei demoni altro non è che l'indicazione di distruggere e annientare tutti coloro che facendosi Dio tendono a cogliere dall'albero della vita eterna sviluppando il proprio corpo luminoso distruggerli come? gettandoli nelle fiamme o gettandoli in mare questo era l'intento fin dalla prima stesura dei Vangeli dei Cristiani distruggere ogni divino la compilazione di Vangeli ad opera di Marco Matteo Luca Giovanni obbediscono ad esigenze di puro e semplice dominio politico sugli esseri umani non solo il Gesù che loro descrivono è un essere povero meschino e illogico ma millantano una presunta discendenza divina al solo scopo di bloccare l'analisi critica degli esseri umani così raccontano come Gesù in quanto figlio del Dio creatore concede ad altri di cacciare i demoni che come oggi noi siamo abituati a pensarli un tempo erano comuni ed oggi sono scomparsi in realtà l'indicazione è quella di distruggere il Dio che cresce dentro ogni essere umano e che lo conduce a cogliere dall'albero della vita eterna Gesù deve distruggere questo o meglio gli estensori dei Vangeli vogliono distruggere questo imputandolo a un Gesù in quanto figlio del Dio creatore chi avrà mai l'ardire di mettere in discussione la parola del figlio del Dio creatore il punto è che non è solo la parola del presunto figlio del Dio creatore che deve essere messa in discussione ma lo stesso Dio creatore davanti a costoro gli stregoni sono diventati audaci svelandoli gli inganni costringere le persone a digiunare e pregare per distruggere il Dio che cresce dentro di loro quando questo non è sufficiente gettarli in mare o bruciarli un aspetto della dottrina cristiana è con questo svelato anche partendo da questo è possibile conoscerne gli inganni la scrittura definitiva dei Vangeli ufficiali va ben oltre il centro dopo Cristo ma fonda le sue origini e i primi abbozzi ben prima dell'anno zero probabilmente su un corpo di intenti fondamentali si sono aggiunte trascrizioni soggettive i Vangeli ufficiali sono stati manipolati in epoche diverse il presunto Gesù non avrebbe detto a nessuno prendi la tua croce e seguimi questa è opera dell'ultimo estensore colui che impone un simbolo e vuole riempirlo del significato della sottomissione così come la presunta profezia della distruzione del tempo di Gesusalemme è una giunta posteriori per far credere ad un inesistente spirito profetico esattamente nello stesso periodo in cui si inserì nel Vangelo la morte di Zaccaria Ben Baracchia che in realtà avvenne nel 70 dopo Cristo detto da Flavio questo è uno storico così distruggendo sistematicamente e militarmente quegli esseri umani che sviluppavano il divino che avevano dentro la menzogna e l'inganno ha preso la forma dei roghi e dell'oscurantismo del quale si sta uscendo soltanto per merito di chi sviluppò il proprio demonio scritto fino aprile 1967 e questo pezzo insieme al Gesù di Nazareth al pazzo di Nazareth ma perché mai Giuda sarebbe un traditore e Gesù di Nazareth il pederasta è una giunta al Gesù di Nazareth dell'infamia umana l'essere umano non è creato da un Dio pazzo è un essere che è uscito dal brodo primordiale e sempre in continua modificazione così io quando scopersi che le linee di tensione che ci legano al mondo sono vive coscienti e consapevoli di sé in grado di esercitare volontà determinazioni e direzione scopersi di essere circondato da dei che come me camminano lungo un sentiero di eternità e il tentativo di comprenderli passò attraverso le immagini della religione romana questa ricerca attraverso la percezione alterata e lo sforzo di traduzione in forma logica delle immagini divenne il sentiero d'oro nel sentiero d'oro a parte le premesse a parte le conclusioni abbiamo vediamo un attimino quante sono abbiamo la definizione di 87 immagini della religione romana di queste 87 immagini della religione romana che vi sto leggendo sera per sera a parte oggi che sto facendo questa cosa un po' particolare vi leggerò Nerio Nerio è la determinazione Nerio impersonifica la determinazione che cresce dentro all'essere umano quando si relaziona con l'oggettività Nerio è una furia non troppo furiosa che permette all'essere umano di predisporre quanto gli è possibile per affrontare la realtà la visione apparsa ai veggenti è quella dell'energia vitale dentro un essere umano che si trasforma in una palla riducendosi di volume a mano a mano che la determinazione aumenta di intensità dentro all'essere stesso è Nerio che si impossessa dell'essere per consentirgli di affrontare quanto l'oggettività richiede da qui a ridurre la visione ad una questione militare è un passo molto breve specie per quei popoli italici dove lo scontro fra gruppi era molto frequente Nerio non è solo questo Nerio è molto vicino a Marte Marte è la contraddizione che si risolve mediante la guerra Nerio è la determinazione dell'essere a risolvere la contraddizione ma mentre Marte è tale anche per la guerra che spesso gli esseri subiscono Nerio è in relazione diversa negli esseri umani a seconda della loro determinazione nell'affrontare questa o quella contraddizione Marte è un'oggettività in quanto parte dell'esistenza Nerio appartiene all'essere che lo sviluppa in funzione degli elementi dell'oggettività quando l'essere umano compatta se stesso nell'affrontare una contraddizione diventa Nerio può essere anche Bellona ma mentre Bellona tende ad impossessarsi dell'essere dell'essere Nerio è sempre al suo servizio Bellona esce dall'essere umano come un torrente in piena Nerio viene costruito dall'essere umano giorno dopo giorno attraverso l'esercizio delle sue determinazioni nell'oggettività quando un essere umano ha imparato a trasformarsi in Nerio in ogni momento della sua esistenza ogni altro atteggiamento gli apparirà sciocco inutile e dannoso Nerio è dunque un fare dell'essere umano attraverso il quale costui affronta l'oggettività dell'esistente imponendogli il rispetto per sé e per le sue determinazioni attraverso l'uso della volontà e del volere l'esistenza di Nerio l'assenza di Nerio dall'essere umano si nota nella rendevolezza dell'individuo la sua lamentazione continua nella sua assenza di rabbia rispetto al più forte non al più debole l'incapacità di convogliare la propria energia vitale nella propria volontà e nelle proprie determinazioni e questo è Nerio un'immagine della religione romana come a me sono apparse cioè la descrizione appartiene a me ed è un mio successo chiaramente esistono milioni di cose da vedere sicuramente quello che io ho visto è infinitamente piccolo rispetto a quello che si può vedere però è un cammino è un passo in sviluppo e la religione e la e questo è il sentiero d'oro che va a indicare va a definire in maniera statica queste immagini la stregoneria e il paganesimo politeista possono esistere là dove la libertà dell'individuo è il principio motore delle relazioni sociali allora è da chiedersi perché i filosofi negli ultimi due secoli hanno venduto il culo come puttane a parte alcuni pur non finendo sui roghi perché la loro filosofia era manipolazione del pensiero e non costruzione del divenire umano di cui il pensiero era testimone la centralità sta nello sviluppo dell'essere umano dove il pensiero e le idee testimoniano questo sviluppo e non nelle idee a sé stanti la cui funzione è quella di risolvere lo sviluppo dell'essere umano in esse le idee dei filosofi in questi ultimi due secoli hanno protetto il condizionamento educazionale col quale i cristiani distruggono nei bambini la costruzione di se stessi nella vita per trasformarle in bestiame di un gregge che conducono al macello i filosofi hanno aderito al più ampio progetto di distruzione umana rifiutando di costruire libertà la teoria della filosofia aperta parte dal presupposto che la stragrande maggioranza degli individui che in questo paese hanno frequentato gli studi classici di questi studi non gliene frega assolutamente niente in altre parole gli studi classici erano un mezzo per ottenere delle cose diverse l'avvocato ha fatto studi classici ma lui interessa soltanto come derubare il cliente o come essere più furbo nell'applicazione della legge a parte relativamente poche eccezioni chiunque ha fatto studi classici in questo paese ricorda al massimo quattro concetti imparati a memoria dal bignami di filosofia dell'ultimo anno col quale affrontare gli esami con questi quattro concetti imparati malamente vengono fatte le leggi vengono stuprati i bambini si organizza la galera e le relazioni sociali la teoria della filosofia aperta prende i concetti del bignami dell'ultimo anno ne analizza i concetti mettendo in evidenza aspetti diversi e considerazioni diverse mostrando come l'uso di quei concetti altro non appartenga alla distruzione e al divenuto umano la critica non è rivolta tanto al concetto o al pensatore ma alla relazione che il concetto si pone nella alla relazione che il concetto si pone nella costruzione o nella distruzione del divenire umano e qui c'è una presentazione c'è una presentazione di alcuni passi alcuni passi di filosofi che potete trovare via internet tranquillamente dove vi do vi leggo solo una conclusione vi leggo solo una conclusione visto che stanno per arrivare i ragazzi saltiamo anche la conclusione perché i ragazzi stanno arrivando per cui le conclusioni cui conducono le tesi della filosofia aperta sono tali da considerare la necessità della costruzione sociale come intento dell'individuo come un atto di stregoneria e la stregoneria il vero motore della storia mentre i filosofi sono i distruttori del genere umano in quanto prendono l'assoggettamento e lo vestono di forma e d'apparenza per costringere l'essere umano a farlo proprio esattamente come i preti cattolici costringono bambini in ginocchio al fine di stuprare loro il divenire i percorsi di stregoneria non sono elementi staccati dalla vita umana e dall'essere sociale esattamente come la magia nera delle religioni monoteiste ha come fine la distruzione del sistema sociale di cui i costori agiscono così la stregoneria è l'arte attraverso la quale costruire la vita quotidiana tracciare i percorsi di stregoneria all'interno dell'antico paganesimo romano è stata un'impresa assolutamente eccezionale e di questo ne vado personalmente orgoglioso anche se i dati su cui si è lavorato sono pochi e scarsi hanno permesso di comprendere come i percorsi di costruzione della coscienza e della consapevolezza fossero legati al fare di tutti i giorni all'attività quotidiana che proprio perché non comprendeva l'orrore cristiano poteva essere vissuta anche come costruzione magica degli esseri umani da questo ho costruito ciò che porta a diventare eterni nella religione romana è praticamente un insieme di 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 farsi divino all'interno della quotidianità che porta a costruire il dio che cresce dentro l'essere umano è una serie di capitoli cercherò di essere veloce perché ho pochissimi minuti anche di registrazione dunque tratta ciò che porta alla nascita cioè le divinità magiche che costruiscono la nascita ciò che porta ciò che favorisce la crescita ciò che porta alla casa come tempio le divinità il lavoro agricolo come fare magico ciò che porta alla manipolazione dell'attenzione partendo da ciò che porta a diventare eterni il senso dell'epiteto nella religione romana in relazione a ciò che porta a diventare eterno ciò che porta alla relazione della natura i guardiani che portano a diventare eterni nella specie umana la danza del pagano psichista ciò che porta il movimento verso l'eternità ciò che porta il lavoro come magia ciò che porta alla relazione con gli esseri animali ciò che porta al lato femminile della vita ciò che porta alle soluzioni delle contraddizioni nella costruzione del divenire commento sulla guerra ciò che porta a diventare eterni la felicità che costruisce ciò che porta al salto nell'infinito di mutamenti trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e questo è stato un lavoro assolutamente eccezionale sia dal punto di vista della stragonaria sia dal punto di vista della ricerca della scrittura questi spezzoni che non ve li leggo chiaramente perché ne ho già accennato rappresentano dei presupposti abbastanza chiari per comprendere cosa sia un percorso di stragonaria all'interno del paganesimo politeista i dati a disposizione erano molto pochi e si è lavorato su quelli tentando di espandere se stessi il concetto secondo cui siamo circondati da dei con i quali camminiamo per costruire il Dio che cresce dentro di noi appartiene alle relazioni del potere di essere e nulla hanno a che vedere col potere di avere il possesso degli individui di cui il cristianesimo è espressione all'interno del potere di avere essere un Dio significa mettere in ginocchio tutti gli esseri davanti a sé nel potere di essere essere un Dio significa alimentare la forza che cresce dentro l'essere alimentando le forze nel mondo che ci circondano affinché la loro forza alimenti la nostra questa è stragonaria questo è paganesimo politeista per comprendere dove ciò porta si sono analizzate le tesi e si sono trattate delle conclusioni al primo congresso internazionale di studi delle esperienze di confine tenuto a San Marino il 16 17 18 maggio 1997 e organizzato dal giornale dei misteri il risultato delle analisi ha prodotto il libro i fenomeni di premorte interpretati dalla stragonaria e dal paganesimo politeista bene questo libro che non è un libro molto corposo l'ho scritto proprio partendo da una serie di personaggi che hanno tenuto questo congresso i personaggi sono Morris che tiene la cattedra di parapsicologia di Edimburgo Rossin che è un psicologo psicosintesi educativa è un educatore Giorgio Di Simone che si qualifica parapsicologo Luigi Baima Ballone che è un medico legale Adolfo Morganti che è un agente un agente nero di Bifi un psicologo aderente a crisi di Bologna Piero Cassoli medico parapsicologo John Beloff professore di psicologia Università di Edimburgo Marco Marnielli medicina e chirurgia generale Artur Berger che è il direttore dell'Istituto Internazionale degli Studi di Morte Massimo Biondi che è un medico giornalista e pubblicista Stefano Beverini che è un scrittore un giornalista Alessandro Meluzzi che è un chirurgo psichiatra Antonio Bianchi che è un medico specialista in anestesia e rianimazione Ovidio Galeazzi che è un medico chirurgo e cardiologo Giuseppe Genovesi che è un medico endocrinologo psichiatra E Aurelio Paciola che è un psicologo e un teologo della Pontificia Università e praticamente in tutto quel congresso non solo le tesi del Libro dell'Anticristo sono state confermate ma è stata l'unica visione che è venuta fuori vincente ancora solo due minuti per concludere con questo concludo la presentazione dei lavori attraverso i quali si è fino ad oggi identificato il processo di stragoneria e di paganesimo politeista tutti gli altri lavori che seguiranno altri non faranno che ampliare le tesi il cui fine è la costruzione di un sistema religioso attraverso il quale legare l'essere umano al mondo circostante togliendolo dalla posizione in ginocchio nella quale gli adoratori del macellare Sodoma e Gomorra intendono tenerlo la libertà dell'essere umano è un atto di costruzione lenta è un processo di trasformazione che in qualche momento si può interrompere se non è sorretto dall'arte della stregoneria e della magia la magia e la stregoneria impediscono all'essere umano di cadere nella distruzione soggettiva il paganesimo ci permette di costruire un cammino di libertà percettiva attraverso la rimozione degli ostacoli sia concettuali che educazionali che si frappongono allo sviluppo soggettivo non ci può essere libertà nella vita dell'essere umano sotto l'orrore del macellare di Sodoma e Gomorra o sotto la follia del pazzo di Nazareth accettando la sottomissione al macellare di Sodoma e Gomorra si paga come tributo alla distruzione di se stessi e la rinuncia ad affrontare la vita si rinuncia ad essere padroni della propria esistenza per diventare parte di un greggio che il buon pastore porta diritto al macello chiamate come volete l'insieme delle forze che alimentano i percorsi di libertà degli esseri umani ma avranno sempre un solo respiro quello dell'anticristo il mio amico Francesco direbbe quello di Pan ma è la stessa cosa questa è la presentazione che abbiamo preparato per internet con una serie di pezzi che io comunque non vi ho letto proprio perché la trasmissione era abbastanza breve ancora meno di un minuto per finire la registrazione e vi ricordo questa è la trasmissione magia stragoneria paganesimo c'è un altro lavoro in corso che è che è Tommaso che è Didimo Giuda Tommaso l'ultimo stragone pagano e a questo lavoro lavorerò questa estate grazie a tutti